Oh, e porca s*****a Sto registrando un video Vabbè Vuoi vedere? Continui Per poi dopo essere un po' più preci... Per poi dopo andare in modo... Per poi dopo... Una volta che io riesco... Ma come 4 minuti? Cioè ma che vuol dire che mi mancano 4 minuti di video, scusa? Cioè ma... No Vado a prendere... La palette quella lì... La vado a prendere la palette quella de... Vado a prendere la palette... Vado a prendere la palette quella che si chiama Nude Tempation... Che si chiama Nude Tempation... Vado a prendere la... Oddio io non ce la faccio... Non ce la posso fare... Vado a... Cioè ma in che senso? In che senso? Io direi di... Io direi di... Io direi di... Oddio... Cioè ce la fai? Lo specchio cazzo... Lo specchio... Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video... Mi vedete con questa faccia abbastanza... Rotta... Ok? Quindi struccatissimo... Perché oggi andiamo a provare... Dei prodotti Astra... Trocchi giorni fa mi è arrivato un pacco enorme... Pieno di prodotti Astra... Quindi dei nuovi lanci che stanno facendo... Delle nuove collezioni... Io mi ricordo che Astra è un brand... Che è nato tanti anni fa... E che anche... Quando ero più piccolino... Lo vedevo nei negozi... Quindi da qualsiasi parte... È solo che adesso si è proprio rivoluzionato... Hanno cambiato i pack... Hanno cambiato le formulazioni... La qualità si è alzata... Però rimanendo sempre con dei prezzi... Veramente... Veramente bassi... Io magari dei prodotti che utilizzerò in questo video... Vi scriverò appunto qui sotto nel video... Tutti i prezzi... Loro mi hanno mandato una caterba di roba... Quindi dopo questo video... Io magari vi registro il video... Dell'unboxing... Quindi diciamo di tutti i prodotti che mi hanno mandato... Quindi appunto volevo fare due video diversi... Allora ci tengo a dire che questo video e quell'altro... Non saranno sponsorizzati... Cioè nel senso l'azienda non mi ha chiesto di fare un video... Però lo faccio perché mi fa veramente veramente piacere... E soprattutto perché sono un botto di prodotti... Ho avuto già modo di provarne alcuni... Che poi vi avevo fatto anche vedere nelle Instagram stories... E sono eccezionali... Mi ci sono trovato da Dio... Userò solo prodotti Astra... O almeno quello che ho a disposizione... Perché se non mi ricordo male... Ad esempio per le sopracciglia non mi hanno mandato nulla... Adesso vediamo l'altro... Quindi io direi di cominciare... Io qui ho tre scatole... Face... Eyes... E lips... Allora come prima cosa... Allora direi di prendere i fondotinta... Allora... Doverete sapere che io ho un... Un amore odio con... Anzi più odio che amore... Per i fondotinta in stick... Perché ragazzi io ne ho provati di tutti i tipi... Di tutte le formulazioni... Dei peggio brand... Io con i fondotinta in stick... Non mi ci trovo... Cioè non sono adatti per la mia pelle... Col tutto che ho una pelle mista grassa... Che poi si vede... Cioè sono lucidissimo da morire... E non ho creme e non ho nulla... Quindi... Questa è la mia pelle... Comunque... Le colorazioni che mi hanno mandato loro... Sono la numero 38... E la numero 31... Dovrò fare il mix... Perché una è troppo chiara... E l'altra è troppo scura... Chiara e vediamo... Ok... Come coprenza... Non è alta... È una vita che io non utilizzo il fondo di testi... Direi di andare a fare due strisciate leggere... Di questo qui un po' più scuro... La cosa che noto è che sono molto morbidi... Come formulazione... Loro mi hanno mandato anche i pennelli... Ma non abbastanza per fare un trucco completo... Quindi ad esempio mi hanno mandato anche il piegaciglia... Il... Il temperino... Tutte queste cose così... Però... Non sono abbastanza... Allora... Come coprenza... Non è alta... Ed è molto strano... Perché di solito i fondotinti e stick... La maggior parte hanno una coprenza bella alta... Comunque essendo formulazioni secche... Sono molto corpose... Allora ragazzi... Cioè... È strano... Ma devo dire che... Come resa mi piace... Non è come gli altri fondotinti e stick che ho provato fino adesso... O almeno... Non è assolutamente secco... Anzi rimane anche un po' lucidino... Non so se... Lo notate... Una cosa che voglio fare adesso è prendere il loro specchietto che mi hanno mandato... Diciamo lo specchietto da borsa... Che è veramente figo... E mi ci specchierò da vicino... Senza che sto sempre a riavvicinare il mio specchio... Questo che ho qui davanti grande... Ragazzi... Comunque sinceramente devo ricredermi... Come fondotinti e stick... Questo così a primo impatto mi piace... Vedremo dopo... Con i vari prodotti che andremo a mettere sopra... Come reagirà... Una cosa che voglio fare però è stratificarlo un pochetto... Dato che... Per me è una coprenza... Troppo bassa... E come colorazione... Diciamo che il match che ho fatto è perfetto... Allora come coprenza va da... Cioè è medio-bassa... Non è medio-alta... Sono bianco... Ma perché mi vedo bianco? In teoria dal vivo non sono... Ci devo stratificare questo... Boh... Allora il problema non è del colore... Perché il colore in teoria è giusto... Il problema è che fa flashback... L'unica soluzione è quella... Che quindi vi tende un po' a sbiancare... Almeno io lì mi vedo più chiaro... Spero di aggiustarlo anche un po' con l'editing... Come correttore loro non mi hanno mandato nulla... Se non questa palettina qui... Quindi l'unica soluzione che ho è di usare questa... Io di solito non utilizzo mai... Queste formulazioni di correttori qui... Perché appunto sono più secche... Io di solito tendo ad utilizzare quelli liquidi... Però ad esempio questa colorazione qui... Non credo che sia molto adatta per me... In teoria è un po' anche aranciata... Boh... Ma raga la vedo un po' troppo aranciata... Per i miei gusti... E poi una volta sfumato... Diciamo va solo a neutralizzare... Perché a illuminare no... Non è il colore adatto... Oh raga ma... Cioè... Io dallo specchio lì giù... Mi vedo strano... Mentre se mi avvicino... La pelle... Perfettamente levigata... E questa cosa mi sorprende... Perché comunque... Sono tutte formulazioni abbastanza secche... Cioè comunque il fondo tint and stick... I correttori di questi qui nella cialda... Cioè sono tutte formulazioni... Più secche... Rispetto a quelle che io applico di solito... Cioè io utilizzo abbastanza cose liquide opache... Io non metto i primer occhi... Per mettere poi gli ombretti... Ma utilizzo i correttori... Il primer occhi... Lo vedo come uno di quei prodotti abbastanza... Inutili... Mi piace un botto la pelle che fa... Ok... Tutta appianata... Ma poi super luminosa... Io non amo la pelle luminosa... E poi comunque la andrò a opacizzare... Però comunque come effetto... Se vuoi un effetto super naturale... Levigato... Wow... Mi sta sorprendendo questa cosa... Perché ve l'ho detto... Sono sempre stato contro i fondi tint and stick... E invece questa cosa mi piace... Vado a settare il tutto... Con la cipra... Loro mi hanno mandato i due tipi di cipre... Una compatta... Che sarebbe questa qui... Che è la numero 40... Però per me è troppo scura... Cioè io la vedo abbastanza scura... Non so posso provare... Ma... No no no... No no no... Scura... Ciao... Quindi andiamo a mettere la cipra in polvere libera... Io questa l'ho già usata... E mi è piaciuta un casino... Vediamo se il correttore... Sì... Ok... Il correttore mi sta andando nelle pieghe... Non metto la cipra con i buchini che ci sono nella confezione... Ma apro direttamente il tappo... E la prendo da qui... Perché mi trovo più comodo... Sento molto Patrick stare in questo momento... Io di solito vado a fare le sopracciglia... Loro però non mi hanno mandato nulla... Se non ricordo male... Per le sopracciglia... A questo punto io vorrei fare le sopracciglia con gli ombretti... No... Però per le sopracciglia non posso fare con gli ombretti... Io so che c'è tanta gente che li fa con gli ombretti... Ma purtroppo ragazzi è una cosa che io non concepisco e non supporto... Quindi vado a fare le mie sopracciglia con il mio amato Cabrao di Benefit... E torno... Ho fatto le mie sopracciglia un po' anche in grandi linee così... Perché tanto comunque non è quello il focus del make up in generale... Un po' comunque non devo fare niente... Oggi mi sto truccando solamente per il video... Quindi adesso passiamo agli occhi... Ho tre palettine da farvi vedere... Queste due... Che sono una con i colori un po' più pop... Che è meravigliosa... Una dalle tonalità... E l'altra paletta che mi hanno inviato... Dalle tonalità calde... Sta qui dentro... Che questa qui appunto è la PR Box... Queste sono tutte e tre le palette... Che poi vedete anche raffigurate qui sopra... E anche di queste qui sempre per il viso... Mi hanno inviato tutte e tre le tonalità che vedete qui sopra... Perciò adesso... Sono deciso se andare ad utilizzare... Queste tonalità qui... Quelle fredde... Oppure quelle calde... Le userò tutte e tre... Invece di farvene vedere magari solo una... Prendo ombretti sparsi... Quindi direi di cominciare con questa qui... La palette dalle tonalità calde... Infatti si chiama Warm Temperation... Non lo so... Voglio fare un mix fra questa tonalità qui... E questa qui... Veramente poco... Ho sbatto l'eccesso e comincio... Quindi lo utilizzo come ombretto da transizione... Volendo potrei anche abbondare di prodotto... Nemmeno in quantità eccessive... E scrivono tantissimo... Praticamente l'altro giorno appunto che vi dicevo... Che vi ho mostrato su Instagram... Avevo fatto una cosa del genere... E l'avevo lasciato praticamente così... Anzi... Ancora più leggero... E appunto perché... Vi dicevo che dovevo andare in discoteca... E quando io vado in discoteca... Mi trucco molto molto sobrio... Non mi chiedete perché... Ma c'ho questa cosa... Cioè... Nella vita quotidiana... Sto super truccato... Nelle discoteche no... Cosa che in teoria... Vabbè... Dovrebbe essere il contrario... Perché ci sa come va in discoteca... Una serata... Fa figo... No... Io sobrio... Vabbè... Questi colori mi fanno impazzire... Cioè queste tonalità calde così... Mamma che sono magnifiche ragazzi... Che poi vedo un mix fra shimmer e opachi... La cosa che mi piace è che sono più opachi... Che shimmer... E appunto quelli opachi sono... Tonalità giuste per essere opachi... Allora... Una volta fatta questa sfumatura... Ciao ragazzi... Ho pulito i pennelli... Nemmeno due giorni fa... Tutti sporchi... Tutti... Tutti... Dal primo all'ultimo... Ok... Un pennello pulito tra... Mille che ho... L'ho trovato... Vado a prendere la palette... Questa dalle tonalità... Fredde... E come colore... Vorrei prendere questo qui... Allora... Devo dire che... Gli ombretti sono della... Polverosità giusta... Si dice... Assieme al marrone questo qui scuro... Vado a prendere un pochettino... Di questo qui che... Non è proprio nero... Nero profondo... Ma è un marrone veramente scurissimo... Come praticamente le mie sopracciglia... Una cosa che noto... È che non fanno assolutamente fallout... Ma zero proprio... Cioè una volta che li prendete da qui... Un po' di polvere... Cioè si vede che ce l'hanno... Però è veramente una cosa minima... E poi quando li applicate sull'occhio... Tutta quella polvere sparisce... Vado a riprendere la palette... Quella dai toni caldi... Ovvero questa qui... Vado a prendere uno dei loro pennelli... Che mi hanno dato appunto... Che sono questi fatti così... Diciamo da... Applicazione... E appunto... Dato che questo qui per esempio... Non l'ho ancora provato... Vado a prendere questo qui aranciato... E invece di metterlo con il pennello... Che stavo usando prima... Vado a metterlo con questo... Almeno... Proviamo... Dato che... Io nella parte sotto... Voglio una sfumatura bella ampia... Allora riprendo il loro specchietto... Questo specchietto comunque... Mi piace un botto... Infatti finirà presto nel mio zaino... Vado a prendere da questa palette qui... Il colore quello in alto un po' più scuro... E vado... Diciamo... Attaccato alle ciglia... Per dargli... Intensità... Adesso invece... Dato che comunque le tonalità... Ho fatto un mix fra tonalità calda e fredda... Ero indeciso fra... Questi due... Ovvero che sono... Un oro... Un silver metallizzato... E sono tutte e due magnifici... Cioè... Guardate quanto riflettono la luce... Tutti e due... No... Però voglio andare a mettere quello più caldo... Perché non lo so... Non lo so... No... Non voglio metterci i correttori sotto... Perché almeno... Voglio vedere la resa senza i correttori... Ovviamente poi con dei correttori sotto... Fanno... Ok... Adesso l'ho applicato con il dito... Voglio utilizzare... Questo qui sempre che mi hanno inviato loro... Che è un pennello più da precisione... High definition brush... Pennello alta definizione... Noto che quelli più shimmer... Sono non proprio cream to powder... Ma quasi... Hanno una base che attacca bene... Quindi anche senza l'aiuto di... Correttori o fissanti... Poi ovvio... Se volete un effetto bam... Cioè super sparato... Allora si mettete... I correttori sotto... O li prendete da pennelli bagnati... E' un'altra resa... Però... Anche da soli... A me non dispiacciono... Vado a prendere... Dalla palette questa qui... Dalle tonalità fredde... Il colore questo qui sopra... Che è diciamo... Tipo un silver... All'interno ha delle cangianze anche rosate... Quindi ce lo tampono giusto al centro... In modo da dare un effetto ancora più... Tra virgolette... E rilievo... Oh... Guardate quanto cambia... Ragazzi non so se notate che... Ho appena picchiettato solo nella parte centrale... I rosate... Guardate già quanto è più... Sì diciamo tipo rilievo... Adesso vado a prendere questo pennello qui... Che si chiama... Powder brush... Pennello cipria... O almeno questo è quello... Per cui è stato creato... Ma alla fine un po' tutti quelli ampi sono anche per le cipre... Però dato che a me piace un effetto molto più intenso... Quando appunto vado ad applicare le cipre... Utilizzo quelle più fitti... Tipo questi così... Perché almeno ho più coprenza sul viso... Mentre questi così... Io li utilizzo per spolverare il baking... Mamma mia sono di una morbidezza incredibile... Io comunque vorrei aggiornarvi riguardo il fondotinta... Allora prima quando mi stavo facendo le sopracciglia... Ho notato che non si stava seccando... Mentre adesso si è opacizzato molto di più... Ovviamente c'è la cipre che lo sta opacizzando... Però... Cioè alla fine nel complesso mi sta piacendo un botto... Ed è molto strana questa cosa... Vi giuro la pelle è super super levigata... E non mi sta evidenziando tutti i vari segni di espressione... Perché il problema di fondotinta stick è quello che... Tipo dopo un tot di tempo... Vi ritrovate le pieghe sul viso... Come dei vecchi praticamente... Però questo non me lo sta facendo... Adesso andiamo a fare il contour... Ho barato perché io questo qui l'ho già usato... Ma l'ho rimesso qui dentro... Perché veramente ragazzi mi è piaciuto un botto questo pennello... Loro lo definiscono blush... Blush brush... Che giochi di parole... Per il blush... Ma in realtà io lo utilizzo per fare contouring... Perché è perfetto... Dato che è angolato... È semi fitto come setole... Perciò mi piace un casino... Io per il contouring vado a utilizzare queste palettine qui... Che non ho ancora utilizzato... Per il contouring ho queste tre palette... Questa qui è la Peach Romance... Quindi torna un po' più sul pesca... Questa è la Pink Romance... E poi c'è quest'altra che è la Mauve Romance... A me fa impazzire tantissimo questa... Però ora una cosa che faccio... È andare a prendere il colore qui in alto della Pink Romance... E lo do come base... Quindi mi creo diciamo già un'ombra... È leggermente più caldo rispetto agli altri... Però io lo utilizzo solo appunto per diffonderlo un po' di più sul viso... Per poi dopo andare in modo un po' più preciso... Con quest'altra che è quella dalle tonalità un po' più scure e fredde... Che si chiama Mauve Romance... Che poi tra l'altro c'è questo colore che mi fa impazzire... Che loro te lo mettono qui diciamo come blush... Ma io lo utilizzerai anche come ombretto perché è stupendo... Sono super super pigmentati... Io non mi aspettavo che Astra facesse questo salto di qualità... L'ho molto rivalutato come brand... Comunque non so se notate... Ma io con il fondotinta non ho messo nemmeno la cipria... Cosa che per me è una cosa che non esiste... Però ecco mi piace talmente l'effetto che mi dà... Che non ho bisogno appunto della cipria... Io di solito la metto sempre... Anche sul più opaco dei fondotinta... Io metto sempre sempre le cipre... La mia amata cipria di Puro Biola... Indissoluble numero uno... Però in questo caso non lo so... Non ne vedevo la necessità... Quindi dopo aver ricreato un po' di ombra al nostro viso... Vado a prendere questa qui appunto la Mauve Romance... E con il colore questo un po' più scuro... Vado qui... A essere un po' più preciso... Ora come vedete l'effetto super elevicato della mia faccia... Veramente sembro di plastica... Che figo... In teoria come blush volevo utilizzare questo... Però dato che sto cercando di farvi vedere il più possibile i prodotti... A sto punto vado a mettere questo qui... Che ho... Che cosa non è? Oh mio Dio mi ricorda tantissimo i gloss... Quelli che si usavano una volta... Cristo santo che buono! Fatemi vedere perché c'è anche quest'altra PR box... Che ancora non vi ho mostrato... Non mi ricordo se c'è qualche blush... Ok no... Qui ci sono... Cioè tinta labbra, smalto... E due... Cioè anzi... Questo è un illuminante cotto... E questa è più una terra abbronzante... Quindi io questo ho barato... Già l'ho usato... L'avete visto su Instagram... E sono follemente partito di testa... Perché è stupendo... E come blush andiamo adesso a utilizzare questo... Voglio utilizzare un'altra volta questo pennello qui... Con il quale abbiamo tolto il baking... Per... Metterci il blush... Oh Cristo! Raga ma è super pigmentato! No vabbè... Oh mio Dio... Cioè il colore è stupendo! Andiamo un po' a spargerlo ovunque sul viso... Per dare un effetto naturale... Vabbè di naturale qui sopra non c'è niente... Wow raga... Cioè no mi piace un botto! Comunque adesso arriviamo alla mia parte preferita... Ovvero l'illuminante! Io in questo periodo mi sto parlando a mettere l'illuminante con tre tipi di pennelli... Cioè prima mettevo con uno e via! Lo sfumavo, lo intensificavo... Tutto con uno! Ovvero questo qui! Invece adesso con tre! Perché non mi basta capito? Quindi vi spiego la cosa che faccio! Allora l'illuminante che vado a prendere è questo qui... Mamma mia ragazzi è magnifico! Che si chiama appunto l'illuminante cotto Marble Fusion! Loro hanno fatto una linea dedicata al marmo! Hanno fatto tutte queste striature così! E stessa cosa per esempio sulla terra! Non so se notate che ha tutte le striature! Io intanto inizio con questo! Vado a prendere l'illuminante pieno di glitter! Cioè capite? Capite? Con questo qui più da sfumatura prendo il prodotto e lo metto solo in questa zona! Cioè... Ho qui... No vabbè! Ma che cos'è? Che cos'è ragazzi? Che cos'è? Mamma mia no stupendo! Con quest'altro tipo di pennello fatto così tipo piatto e fino... Vado appunto a riprendere un po' dell'illuminante! E soprattutto è comodissimo per il naso perché guardate quanto è preciso poi! Cioè vi fa praticamente tutto il setto in una sola passata! Cioè vedete? Guardate! Eccolo! Eccoci qui! Cioè fa tutto in una sola passata! Lo metto anche sulla punta e sull'arcazzo di pupito! Wow! Mamma mia! E un'altra cosa che fa cioè diciamo qui! Sopra le sopracciglia! Ok! Riprendo il loro pennello da precisione di prima! E sempre con lo stesso illuminante! Lo vado a mettere sia all'interno dell'occhio quindi per fare un punto luce! Sia nell'arcazzo di sopraccigliare! Ripassiamo agli occhi e facciamo le ciglia! Allora loro mi hanno inviato due mascara e tre tipi di eyeliner! Io di solito non faccio mai le righe di eyeliner però per questa volta, solo per voi, la voglio provare! Link Liner effetto nero intenso! O se no c'è un altro eyeliner che è questo qui, sempre nero intenso però con lo scovolino che non è rigido come questo! Poi c'è quest'altro che è sempre un eyeliner con lo scovolino un po' più morbido però in effetto vinilico quindi vi rimane più lucido! Un momento di silenzio per favore! Cioè quando lo faccio sugli altri mi viene perfetto, quando lo faccio su di me no! Cioè sono abbastanza simili ma abbastanza non sono uguali ma vabbè ragazzi ho due linee di eyeliner che arrivano fino alle orecchie però va bene così! Vai! Una volta che lo state applicando tende un po' ad essere tipo acquoso! Diciamo che la prima passata serve secondo me per dargli la forma e la seconda invece, mentre che appunto state continuando a fare la linea del eyeliner, dato che si asciuga abbastanza in fretta quindi è una cosa anche positiva! La seconda passata che fate avete il colore pieno, non l'avete alla prima passata perché vi risulta un po' più sì, diciamo acquoso! Passiamo ai mascara, io un'altra volta avevo provato questa mascara qua e mi era piaciuto tantissimo, si chiama Astra Curling Volume quindi mascara volume panoramico e ha questo scovolino fatto così, anche un po' tipo di traverso e mi è piaciuto tantissimo però quindi questa volta, dato che questo qui ve l'ho fatto anche vedere già nelle Instagram stories andiamo a provare questo qui che si chiama Hashtag Insta Volume quindi mascara volumizzante e lo scovolino è abbastanza grande! Vi dà subito l'effetto intenso, subito proprio, l'ho appena applicato! Poi è vero che i mascara, cioè l'effetto reale del mascara lo vedete dopo un mesetto circa, una cosa del genere e inizialmente tutti i mascara sono abbastanza più liquidi però questo comunque mi piace un botto! È fin troppo liquido per il mio gusto, ecco per avere un effetto intenso un po' dovete aspettare! Io vedendolo da vicino devo dire che preferivo molto di più l'altro, fare l'altro occhio con questo! Mi piace mai questo! Cioè questo ti dà sia curvatura sia volume! Fare la combo di queste due mascara è una cosa estrema! Comunque guardate il cavolo di effetto che vi fa, io spero che lo notiate! Vado a mettere il mascara anche sotto! Mi sta venendo? Mi sentite bestemmiare? Ragazzi stiamo scherzando! Passiamo alle labbra! Sono veramente superati perché mi hanno inviato un botto di cose! Ho già avuto modo di provare! Cioè dentro c'è il mondo! Io adesso voglio utilizzare qualche matita che ancora non ho utilizzato! Questa qui! Queste qui si chiamano Professional Lip Pencil! Matita Labbra! Quindi questa qui che è tipo questo colore un po' marroncino aranciato! È la numero 33! E voglio metterci la tinta che vi ho fatto vedere anche su Instagram Stories che mi sta piacendo un botto che è la numero 15 che si chiama Fashionista! Sono tre anni che mi trucco e io non ho mai, mai, mai utilizzato una matita per le labbra! Mai! Cioè ovviamente la trovo una cosa rilevante per me non per tutti! Perché comunque gli essendo abituato anche a mettere con gli scovolini le tinte labbra e comunque mi ci trovo bene lo stesso nell'applicazione non ho bisogno di matite! Però dato che questa volta le voglio provare... Non lo so potrebbe essere una nuova scoperta! Ecco mi piace un botto questo colore! Comunque adesso io lo faccio vedere perché appunto cerco di mostrare i prodotti! Però in teoria con queste tinte labbra ma in generale proprio con le tinte labbra le matite non servono perché se sono abbastanza pigmentate non avete bisogno di andare a contornare le labbra! Però ecco di solito chi utilizza le matite è perché non ha grandi manualità come magari i pennelli che ci sono qui e quindi preferisce prima contornare e poi con queste andare solo a riempire! Una cosa che vi consiglio magari quando prendete queste tinte labbra è di pulire un po' lo scovolino perché prendono veramente tanto tanto prodotto! Quindi rischiate che poi andate a mettere troppo prodotto sulle labbra e ci mette i secoli da asciugare! Vedete perché vi dico che le matite non servono perché poi comunque una volta che io vado a passare la tinta labbra la copro totalmente! Però comunque ragazzi sono dei colori stupendi quelli che hanno! Ne hanno veramente un botto! Questo tra tutti quelli che ci sono è il mio preferito! Perché comunque sono delle anità che metto di solito! Quindi sui marroncini, sugli aranciati e cose così! Una cosa che ho notato è che sbianca tantissimo i denti! E' veramente veramente bella! E come vedete già si sta asciugando! Posso dire che il make up è completo! Ragazzi veramente io sono stra stra contento di tutti i prodotti che mi hanno mandato! Ci sono alcune cose che mi piacciono di più, altre di meno però in grandi linee la qualità è veramente ottima! Magari per quello che ho provato oggi l'unica cosa che potrei tra virgolette non bocciare perché alla fine sto provando piano piano tutti i prodotti e mi piacciono tutti dal primo all'ultimo! L'unica cosa che ho riscontrato un po' di difficoltà tra virgolette è nell'eyeliner non tanto nell'applicazione ma riguardo la formula però credo che sia un po' come mascara quindi se lo utilizzate dopo un tot di tempo la formula cambia e quindi credo diventa un po' anche più passosa dato che è abbastanza liquida però oltre questo io non mi lamento di nulla forse della paletta dei correttori avrei preferito una tonalità un po' più chiara per il mio incarnato e per chi è più chiaro di me perché altrimenti questi qui sono più... è vero che è una palette correttiva quindi non ci sono cose illuminanti però ecco se questo fosse stato un po' più chiaro non sarebbe stato male perché alla fine per correggere c'è anche l'aranciato quindi basta ne metti poco e vai a contrastare l'occhiaia perciò una più illuminante ci sarebbe stata addio però vabbè ecco oltre questo sono rimasto piacevolmente colpito dal fondotinta è una cosa che io non mi aspettavo e sto notando che veramente ho la pelle super levigata cioè sono gli unici fondotinta in stick che non vi danno l'effetto né pesante né secco né pelle che tira e né mascherone e soprattutto tanti fondotinta in stick vi evidenziano tutta la peluria che abbiamo sul viso no? tutti hanno la peluria sul viso e tanti la evidenziano questo no cioè io mi sto vedendo così da vicino e veramente ragazzi io non ho nulla e non ho le varie cose che avevo riscontrato negli altri fondotinta in stick quindi sono veramente veramente contento che qualcuno sia riuscito a fare come Cristo comanda io un giorno di questi vi registrerò il video in cui vi faccio vedere tutti i prodotti di Astra perché me l'avete chiesto siete curiosissimi appunto di vedere le cose che mi hanno mandato però ho fatto prima questo video in modo da farvi vedere la resa dei prodotti soprattutto anche per farvi sapere qualche prezzo di ogni prodotto perché veramente sono ottimi e non costano nulla quindi per me sono super approvati e li consiglierei a chiunque quindi detto questo io spero come sempre di aver venuto a compagnia fatemi sapere se avete provato qualcosa di Astra se vorreste provare qualcosa di Astra e quindi magari anche tramite questo video avete visto qualcosa che vi piace io le cose che vi consiglio sono alla fine un po' tutte ma soprattutto anche le palette che io per uno come me che trucca tanto gli occhi le palette queste qui sono meravigliose poi magari c'è chi trucca tanto le labbra e quindi vi consiglio appunto di virare sulle tinte labbra o cose così però ecco in generale sono tutti ottimi ottimi prodotti come sempre spero di avervi dato in compagnia vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao